il cipollazzo guarda un po' mi vado vuoi anche sparare aderenza io sul primo mi sono fermato e ho voluto guardare com'era poi sono passato sì che è talmente asciutto che le radici fanno un caso ok a ver se va qui a riva o no vuoi medio saliente perché c'è il lase molto diverso cari por todo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.